La Puglia apre le porte della campagna vaccini anti-covid anche alle fasce più giovani della popolazione con l'obiettivo di dare una decisa accelerata in vista dell'estate. La data da segnare in calendario è quella di giovedì 3 giugno quando partiranno le prenotazioni anche per le persone con meno di 40 anni. La macchina vaccinale scalda i motori e si avvia decisa verso le somministrazioni di massa considerando che saranno interessati circa un milione e mezzo di Pugliesi. Via libera ma con ordine fanno sapere dalla regione. Al fine di non sovraccaricare i canali telematici e telefonici si procederà per gradi in modo tale da assicurare un miglior servizio ai cittadini. Vale a dire che sarà possibile procedere alle prenotazioni in base ad un piano prestabilito che tiene conto dell'ordine di anzianità. Si comincia con i nati tra il 1982 e il 1986 che potranno prenotare il loro appuntamento per ricevere il vaccino dalle ore 14 del 3 giugno. Il 5 giugno sarà la volta della fascia 1987-1991 e così via ogni due giorni verranno sbloccati anche tutti gli anni successivi fino al 2005. Nel giro di dieci giorni tutti i pugliesi potranno fissare la data della somministrazione. Le prenotazioni avverranno sempre con le stesse tre modalità collegandosi al sito la Puglia ti vaccina, telefonando al numero verde o recandosi personalmente presso una delle farmacie convenzionate alla rete Pharmacup. Ma non è tutto, la campagna vaccinale pugliese è pronta ad allargarsi anche di più. Tra gli under 40 che potranno ricevere la loro dose anti-covid rientreranno infatti al più presto anche gli adolescenti fragili tra i 15 e i 12 anni. La conferma arriva dal presidente Michele Emiliano dopo l'ok da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco ed il via libera dell'Agenzia Europea per i medicinali. Noi vaccineremo immediatamente tutti i bambini fragili della Puglia, tutti quei bimbi che hanno bisogno di questa tutela per ricominciare a uscire, a socializzare, a vivere normalmente, ad andare a scuola. Quindi verranno chiamati tutti dai centri che li hanno in cura e li vaccineremo in fretta in modo tale da fargli passare un'estate un po' più tranquilla e un po' più serena. Grazie a tutti.